Sconto frontale nella serata di giovedì 21 gennaio intorno alle 19.30 sulla 460 Feletto, coinvolta una Toyota condotta da una donna di 54 anni, residente a Quarnier, e una Fiat Tipo con a bordo un 54enne di Bosco Nero. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e Rivarolo Canavese, i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri. Subito a soccorsi, dopo una prima medicazione, i conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Cerie, non sono in pericolo di vita, la dinamica è il valio dei carabinieri. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS